Scendono i positivi nelle marche, ma è ancora alto il rapporto tra positivi e testati che è pari al 3%. I nuovi contagi sono 28 sulla base dei 941 tamponi processati nel percorso nuove diagnosi, mentre il totale, nelle ultime 24 ore, è di 1788, di cui 847 nel percorso guariti. La maglia nera spetta la provincia di Ascoli alle prese con il focolaio scoppiato in riviera. Dei 28 positivi riscontrati nelle marche, 18 sono solo nel Piceno, seguito dai 5 di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 1 nella provincia di Macerata, nessuno in provincia di Ancona e 2 fuori regione. 6 sono sintomatici. Regione Marche con il fiato sospeso. Il picco di contagi nella provincia di Ascoli potrebbe mettere a rischio la zona bianca. Sono attesi per la giornata di oggi i risultati di altri 100 tamponi effettuati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, a seguito del tracciamento dei contatti stretti di coloro che hanno partecipato alla festa di San Benedetto. Tra questi sono già 45 quelli che sono risultati contagiati. Si attende nei prossimi giorni il risultato delle analisi sui 7 tamponi inviati al laboratorio di virologia dell'ospedale regionale di Torrette per accertare se si tratta di variante Delta. Nel frattempo il governatore Francesco Acquaroli ha ribadito la necessità di non superare il numero di 50 nuovi contagi al giorno per evitare di tornare in zona gialla e per questo ha raccomandato a tutti i cittadini la massima attenzione e il rispetto delle regole per prevenire i contagi.